un anno fa e qualche mese in realtà esattamente a ecma 2019 portai qua sul canale un video relativo al mondo elettrico e a distanza di un anno senza aver rivisto quel video voglio rifare questo video e vedere se il mio pensiero nei confronti del mondo elettrico è cambiato vi lascio un secondino al mio inviato speciale che mi fa vedere una cosa interessante qua nel mio comune di barberone al mugello anche qui in un paese di circa 10.000 abitanti io credo sono arrivate le colonie di ricarica per le auto elettriche o quantomeno mezzi elettrici quindi abbiamo una e un'altra qui dietro sono due ora me ne faccio vedere un altro che è arrivato un altro punto diverso di barberino e ci andiamo molto velocemente eccoci qua ragazzi nel secondo punto di barberone al mugello dove è comparsa una colonnina di ricarica ebbene sì qui abbiamo la terza colonnina qui presente a barberino del mugello e devo riconoscere che stanno aumentando sempre di più dove troviamo una colonnina di ricarica troviamo un parcheggio riservato per il mezzo elettrico in questione questo ha molto senso perché se la mia golf fosse elettrica avrei bisogno di questo posto qua libero per poterla attaccare alla colonnina così da poterla ricaricare e ripartire per il mio viaggio ovunque io debba andare per tutte quante altre considerazioni ridiamo la linea a noise in uno studio qui da barberino del mugello e tutto quanto da siwafa ciao ragazzi eccoci tornati qua sulla desk in un comune piccolo come barberino del mugello pian piano in maniera molto timida il mondo elettrico sta entrando dalla porta di servizio ma sta entrando un anno e mezzo fa quando feci il video a ecmo 2019 qua sopra il link per poterlo vedere effettivamente queste colonnine non c'erano quello che io penso sul mondo elettrico ve lo dirò alla fine del video ora è il caso di fare un attimino un confronto a livello prestazionale o a livello anche pratico tra un motore elettrico e un motore termico quattro sono gli aspetti principali che io intendo attualmente prendere in considerazione costo iniziale costo di manutenzione prestazioni e durata il costo iniziale e qui abbiamo un grandissimo punto a favore per il motore termico è veramente alto per il motore elettrico costa tanto anche perché tutto quanto il pacco batterie può arrivare a costare tra i 16 e i 20 mila euro per ogni singola vettura quindi costo iniziale direi 1 a 0 per il motore termico costo di manutenzione e qui purtroppo cominciano i tasti dolenti per il motore termico perché il motore termico come voi sapete ora parliamo di un mezzo a due ruote andiamo mediamente tra gli 8 e 12 mila chilometri per ogni singolo tagliando una macchina per esempio il tagliando mediamente ce l'ha ogni 20 mila chilometri un motore elettrico non ha tagliandi un motore elettrico ha una vita stimate intorno ai 500 mila chilometri anche perché al suo interno non ci sono parti che fanno attrito fra di loro questo fa sì che regolarmente un motore elettrico vada controllato ma è un controllo di routine per vedere che tutto quanto sia a posto fondamentalmente un motore termico invece regolarmente richiede manutenzione richiede assistenza cambio di pezzi cambio di lubrificanti e questo ovviamente è un costo con questo grandissimo gol del motore elettrico il risultato sale a 1 a 1 prestazioni e qua purtroppo sarà un altro gol importante per il motore elettrico e già lo assegno 2 a 1 per il motore elettrico il problema per il motore termico subentra quando andiamo a parlare di coppia nel motore termico sappiamo che la coppia viene espressa tendenzialmente nella seconda metà della scala dei giri a disposizione di un motore quando meno serve fondamentalmente mentre sul motore elettrico è pronta sin da subito un motore elettrico apro gas e eroga tutta la potenza a disposizione subito quindi ecco perché nella prestazione un motore elettrico è migliore durata e qua ci possiamo ragionare perché se abbiamo visto che un motore elettrico ha una durata complessiva dichiarate intorno ai 500.000 chilometri circa poi dipende giustamente dai modelli se ha due a quattro ruote ci sono tanti ore in gioco mentre il motore elettrico secondo i nostri standard avrà sicuramente una vita lunga perché 250.000 chilometri diciamo così mediamente non sono pochi ragazzi ma in confronto ai 500 dichiarati di un motore elettrico non sono nulla perché sono esattamente la metà la differenza secondo me qua sta nel pacco batterie il pacco batterie si usura proprio come i nostri telefonini le macchine o i mezzi elettrici sono forniti da batterie che con il tempo si usurano e se un motore da cambiare su una macchina un prezzo accessibile a tutti quanti ci può costare anche 2000 euro un pacco batterie ci può costare fra i 16 e 20 mila euro questo è un dato a favore secondo me per quanto riguarda il motore termico però la durata complessiva del motore è migliore per quanto riguarda il motore elettrico quindi devo per forza dare anche un punto al motore elettrico il punteggio è a favore del motore elettrico se domani mi venisse chiunque a dirmi ti regalo un mezzo elettrico te lo regalo ovvio lo accetterei lo terrei perché serve un mezzo in più però se dovessi comprarlo ci penserei penso più di una o due volte ci penserei tantissime volte la tecnologia ha fatto grandissimi passi avanti se penso a pochi anni fa mi vengono in mente auto che aveva un'autonomia intorno ai 250 300 chilometri e parliamo veramente di pochi anni fa e ad oggi abbiamo macchine come la tesla che ha un'autonomia di 600 chilometri poi mi fermo attacco la corrente e dopo solo sei ore circa ho il pieno di ricarica se penso alla live wire la moto elettrica di harley davidson mi viene in mente un mezzo che con un pieno di energia ci fa guidandola nelle migliori condizioni possibili scritte sul libretto di uso e manutenzione 250 chilometri quindi ecco una moto ad oggi non è propriamente indicata per il viaggio diventa la moto per mi diverto l'uscita domenicale vado torno a casa ricarico esti cazzi però io oggi ancora non riesco a concepire un motore elettrico o meglio lo concepisco come tecnologia futura per migliorare la vita di tutti noi per far sì che la nostra esistenza possa essere effettivamente migliore però c'è qualcosa che non mi torna c'è qualcosa che rimane lì e che dici la cacca dov'è il motore elettrico per funzionare ha bisogno ovviamente di elettricità e questa elettricità da dove arriva solo ed esclusivamente da centrali elettriche ecosostenibili no 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 arriva anche da centrali nucleari centrali a carbone io sono naturale perché io utilizzo un mezzo elettrico ma tutto ciò che c'è dietro questo mezzo elettrico non lo è anche perché le batterie a litio vengono fatte con materiali ricavati da miniere che creano dei danni alla terra assurdi la cacca c'è sempre la cacca c'è sempre anche perché se pensiamo che lo stato sta facendo tantissimi incentivi per il mondo elettrico mi fa caponare la pelle ma non perché il mondo elettrico ripeto sia qualcosa di negativo ma non è il problema principale dell'inquinamento dopo questo video andate su google e scrivete inquinamento co2 classifica i mezzi di trasporto non sono al primo posto non sono al secondo il primo in assoluto sono le nostre caldaie oggigiorno parlare di elettrico o quanti di conversione al mondo elettrico è troppo presto la produzione di una macchina elettrica deve essere di concetto è ovvio e poi di fatto green possono anche dirci che guidando i mezzi elettrici noi diventiamo parte importante per far sì che il nostro mondo torni a respirare aria pulita sì sì mentre guida la macchina ma l'elettricità è arrivata da centrali che creano un'aria pessima e l'acqua con cui vengono poi puliti gli scarti smaltimento delle batterie finisce in mezzo all'acqua che poi noi andremo a bere per questo motivo io reputo il mondo elettrico oggi non pronto per questo motivo io dico no all'elettrico se non che mettano a posto tutto quello che gira intorno al mondo elettrico allora allora direi ben venga il mondo elettrico anche se poi fondamentalmente io rimpiangerei sempre il motore termico perché il motore termico ti dona dei delle sensazioni che sono indescrivibili canta vibra puzza ti rendi conto che stai guidando non sei su un phon un phon scrivetemi qua sotto nei commenti il vostro punto di vista sono curiosissimo di poterlo conoscere perché sono sicuro che verranno fuori degli aspetti a cui non ho pensato e che saranno importanti per integrare questo argomento iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi